Ed eccoci rientrati qui in studio, io sono insieme alla professoressa Tiziana Stallone, biologa, nutrizionista e docente presso l'Unica Millus Roma 1. Salve professoressa, bentornata al Check Up. Grazie. Allora professoressa, l'attività è importantissima, l'abbiamo sempre detto, ed è importantissima a qualsiasi età, ma è altrettanto importante l'alimentazione che noi associamo al movimento, anche perché durante l'alimentazione noi diamo energia, noi diamo nutrienti. Ecco, vorrei che ci spiegasse per quale motivo, appunto, per chi svolge attività motorie importanti o meno, è importante il tipo di alimentazione da adottare. La prima considerazione da fare è, camminerebbe una macchina senza il giusto carburante? Ecco, l'alimentazione è l'energia, il carburante del nostro corpo quando facciamo attività fisica. Non dobbiamo mangiare troppo poco, non dobbiamo mangiare troppo, gli alimenti devono essere in equilibrio per non avere un'usura a livello dei diversi organi. Un'altra domanda che le volevo fare è, a proposito delle persone che hanno una vita abbastanza attiva, ecco, in questi casi che cos'è che non deve assolutamente mancare nella loro alimentazione? L'armonia tra le diverse classi di alimenti, carboidrati, energetici, a basso rilascio, come ad esempio cereali integrali, proteine che consentono con carne e pesce il recupero, una corretta idratazione, la presenza di fibre, di antiossidanti, un giusto mix. Di un po' tutte queste cose che ci ha appena elencato. Ci sono degli alimenti che possono aiutare l'apparato muscolo-scheletrico a stare bene? Pensiamo ad esempio alle ossa, quanto sia importante l'equilibrio tra calcio e fosforo, quindi qui abbiamo del parmigiano o la vitamina D, l'esposizione al sole, e anche qui è un esempio tra le alici, tra calcio e vitamina D, che si prende ad esempio anche attraverso le lische, quindi le alicette fritte. Poi andiamo invece a livello dei tendini, lì ecco ad esempio il collagene presente all'interno e quindi vitamina C, vediamo qui gli agrumi e infine fondamentale per il benessere muscolare, l'alta idratazione e poi le proteine associate ai carboidrati. Naturalmente l'alimentazione deve essere particolarmente adeguata alle persone che fanno particolare sport, quindi volevo capire, perché c'è un po' di confusione in merito, specialmente per gli sportivi, no? Prima di fare una sessione di ginnastica non sanno mai cosa mangiare, che cos'è che dà loro energia e soprattutto alla fine che cosa dovrebbero mangiare per favorire il recupero? C'è una differenziazione tra sport e sport, però possiamo dire genericamente che prima dell'allenamento, prima diciamo tra le due ore e comunque prima di un'ora, sono importanti dei carboidrati a lento rilascio, quindi ad esempio del pane o dei cereali, ci può essere anche sul pane marmellato che dà energia rapida, ma quando lo sport è molto intenso anche grassi, ad esempio il burro con l'acido butirrico che va a alimentare i muscoli. Perfetto. Il recupero? Ecco. Entro un'ora dall'allenamento, dalla fine quindi dell'allenamento? Dalla fine dell'allenamento, un abbinamento tra proteine di qualità, ad esempio parmigiano e zuccheri semplici. Ci possiamo portare delle prugne secche, questo mix proteine e zuccheri semplici aiuta la sintesi muscolare. E adesso parliamo anche delle persone che hanno una vita abbastanza attiva, ecco, pensano comunque di poter far ginnastica e mangiare, insomma le cose che ci vengono consigliate ogni giorno, ma in quei casi c'è anche bisogno di integrare con dei veri e propri integratori alimentari? Quando si fa un'attività fisica intensa, e sottolineo intensa, gli integratori alimentari possono essere utili, attenzione, consigliati da esperti. E allora a questo punto possiamo avere ad esempio dei prodotti a integrazione idro-salina e dentro con degli energetici, delle maltodestrine, possiamo avere anche integratori di ferro oppure proteici come polveri del latte ad esempio o amminoacidi essenziali. Ma noi fai da te. Ritorniamo all'attività fisica regolare, che è una grande alleata della nostra salute, lo stiamo dicendo, ma un'altra grande alleata della nostra salute è l'idratazione. Noi l'abbiamo detto anche nelle puntate precedenti, che bisognerebbe bere un paio di litri al giorno di acqua. Però non è detto, professoressa, che debba essere soltanto acqua. Comunque l'acqua si può anche ovviare. E' una cosa importante che le volevo chiedere anche. Quando è che bisognerebbe bere? Prima dell'allenamento? Durante o dopo? Il fabbisogno di acqua, e questa è la prima cosa, può aumentare quando lo sport è intenso e soprattutto quando si perdono liquidi e quindi si suda. Qual è il timing dell'acqua? Prima anche mezzo litro nell'ora precedente, durante a piccoli sorsi e dopo nel recupero. Diciamo una cosa utile per agli sportivi, per chi corre un integratore, fai da te. Allora si può preparare dentro un litro d'acqua un mix con vitamina C e sali minerali degli agrumi, utili per la corsa un'arancia spremuta, un cucchiaino di miele per gli zuccheri, un pizzico di sale iodato per il recupero. Miele e sale insieme? Sì, sì, un pizzico e poi un po' di miele. Bene, lo proveremo. L'attività fisica fa bene a tutto il nostro corpo, fa bene anche al nostro intestino. E a proposito di mobilità intestinale, quali sono, secondo lei e secondo il suo consiglio, gli alimenti che dovremmo assumere? Prima degli alimenti, l'acqua. Perché posso caricare di fibre che notoriamente, quella insolubile, aumentano il transito intestinale, ma se non ci metto la giusta idratazione, non va bene. Grassi, olio extravergine di oliva e poi fibre solubili, come ad esempio l'inulina, che è presente, non so, lì vedevo il topinamburro, oppure la cicoria che aiutano anche il microbiota intestinale. Grazie professoressa Stallone, grazie per essere stata con noi.